oh ragazzi i due tempi creano sempre problemi guarda la una con la punta a vale col muso a valle a due tempi Enrico niente oggi è in vena di farci fare passaggi del cazzo si ma Enrico ci hai rotto le palle oggi no io ascolta veramente ho paura dell'altezza tutti i passaggi Enrico come sei grosso oggi come sei grosso oggi sei più dotato del solito ma sono dei passaggini ma non è per questo passaggio qua non è un problema quello di prima era troppo alto no non mi va bene guarda che io soffro divertito mi sto facendo Max dove sei? Uh Max ci manchi Max Oh ragazzi non è che possiamo stare qui ad aspettare due tempi Niente ha rotto anche la mascherina Allora Si ho visto Si ho visto Si ma ti ha rifatto il motore le grafiche le plastiche la forcella il mono cosa vuoi ancora se ti ha rotto un falo devi fare i coglioni quadrati a tuo fratello adesso comunque tu glielo ripaghi brutto bastardo Il secondo falo Cosa fai? Faccio il faldo Oh! Gian! Gian Lupo Oh Dai mi puoi fare questo passaggio in nome di Tractor? Dai Dai! In nome di chi? Di Tractor Tractor si fra un'ora arrivava a fare il passaggio Non perchè è lento Ci vediamo qui alle 10 Arriva alle 11 Tractor io non ho detto niente hai visto? Hai visto? Dai andiamo Forza Dai se no non è che posso stare qui a caricare filmati due ore eh io Oh però adesso si va il nostro giro eh Aspetta Qua è Michele Il solito! Sempre a spingere Com'è che dai TOGAS E' qua ci sono due 2 tempi allora cosa vogliamo fare notte hai la tenda hai la tenda per stare qua a dormire non lo so io non posso dire più niente si è incastrato sull'albero ridicolo due tempi ridicolo va quanto fumera va e poi si lamentano se li vogliono togliere dal commercio è giusto è giusto in cui fa quello lo stavo dicendo lo stavo dicendo io adesso gas gas 300 eccolo qua aiuta Enrico aiuta Enrico ragazzi io so che i quattro tempi sono passati poi fate voi eh ma il vostro silenzio già mi dice qualcosa sono passati si si porca peste mi viene dopo gas gas 300 freno a disco praticamente pieno aia mica mi ha dato una pelata al cellulare aia aia aia